Buongiorno a tutti, sono Levi Smarting, direttore del Consorzio Bosco Montello. Per chi non ci conosce, il Consorzio Bosco Montello è un ente di cui fanno parte i comuni di Montebelluna, di Volpago del Montello, di Crocetta, di Giavere e di Nervesa della Battaglia. Noi siamo l'ente che ha ridato vita alla tradotta, l'ex dinea ferroviaria, che portava i soldati al fronte del Piave. Ciao a tutti, sono Natalino Comin, Presidente di Fare Natura Onlus, un'associazione ambientalista che dedica il tempo e passione a piantumare alberi nel nostro territorio. Ci stiamo grazie al Consorzio Bosco Montello che ci dà la possibilità di piantumare alberi in sicurezza, anche per la sicurezza che restino ad oltranza e non vengano tagliati. Qui se l'ha tradotta che è un monumento storico per non dimenticare quello che è stato, perché quando un popolo dimentica da dove arriva non ha un futuro. Mirko Paiussin, Caimano del Piave, una passione che nasce come? Nasce dalla voglia e dalla curiosità di scoprire tutto quello che riguardava l'ambito militare. Poi abbiamo cominciato come gruppo a ripristinare e rendere fruibili delle postazioni sulla primissima linea del Piave e da lì poi è nato il gruppo storico, che continua nella manutenzione, nella valorizzazione dei propri territori sulla riva del Piave e che continua ovviamente anche la propria attività di didattica con le scuole o con gli appassionati, che noi svolgiamo sempre in uniforme storica e con l'esposizione di Cimeri, che sono per la maggior parte originali, molti dei quali trovati sul Piave. Pensiamo fortemente che sia un qualcosa che deve essere trasmesso alle nuove generazioni, soprattutto nei nostri territori, capire e sapere quello che è successo e per anche dare importanza ai luoghi che si calpestano. Abbiamo tantissimi luoghi, dal Montello al Piave stesso, abbiamo i Sacrari, abbiamo un sacco di cose che ci riportano a quel tristissimo evento che si chiama Grande Guerra e che qui ci ha colpito fortemente. Mirko, cosa ti fa provare indossare un uniforme così e calpestare certi luoghi? Beh, l'indossare l'uniforme è sempre un qualcosa di particolare perché la prima cosa che ti viene in mente ovviamente sono le persone, i giovani, che l'hanno indossata in ben altri contesti. Sapere di avere un uniforme addosso, magari a 18, 20, 22 anni, e sapere che da lì a poco magari avevi un assalto da affrontare, dovevi uscire dalla trincea, dovevi affrontare le armi nemiche, penso sia stata un qualcosa di veramente devastante a livello fisico e a livello anche psicologico. Per noi è semplicemente un onore e cerchiamo di indossarla sempre con il massimo rispetto, come si deve ai militari che hanno prestato servizio. Grazie a tutto quello che fate. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.